Buongiorno a tutti e benvenuti al saluto del lunedì da Angelo Camilleri Addis, il vostro mister affitti Brianza. Questa settimana si parte festeggiando, infatti le nostre pagine di solo affitti limbiate e solo affitti desio su facebook hanno raggiunto ben 1000 follower per quanto riguarda limbiate e 1400 per quanto riguarda desio. Ho deciso quindi di premiare questo vostro affetto nei nostri confronti con due nuove rubriche che si aggiungeranno al saluto del lunedì e al diario del venerdì, una per i proprietari e una per gli inquilini. Parto quindi dai proprietari che avranno un loro gruppo facebook che si chiama Portale Affitto dove potranno confrontarsi tra di loro e vedere tutte le notizie importanti riguardanti l'affitto. In particolare dedicherò il giorno mercoledì alla rubrica dedicata ai proprietari e in riferimento alla sicurezza negli affitti per cui avrete tutte le notizie legate alla sicurezza negli affitti e tutti i consigli utili in merito a questo argomento importantissimo. Per tutti gli inquilini invece ho creato un nuovo gruppo che si chiama Annunci Immobiliari dove potranno vedere tutti gli annunci delle nostre agenzie ma non solo e confrontarsi direttamente tra gli inquilini presenti all'interno del gruppo. In particolare a voi dedico il giorno giovedì alla rubrica dedicata ai nuovi annunci quindi pubblicherò sia su desio che sull'inviate un annuncio direttamente delle nostre agenzie con qualche dettaglio in particolare. Potrete poi ovviamente ritrovare tutti i nostri annunci sui nostri siti www.desio.sorafitti.it oppure www.limbiate.sorafitti.it. Come vedete siamo carichi per iniziare questa nuova settimana di lavoro che ci avvicina sempre di più al Natale quindi non mi resta che augurarvi una settimana fotonica 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 fotonica